luogo di memoria perenne lo ha definito il vescovo di andrea monsignor luigi manzi un monumento che deve essere un monito all'ingresso del cimitero a ricordare a quanti entrano che la cattiveria esiste ma pace e amore vincono la miseria umana riposano qui ora dopo essere stati traslati i resti della piccola graziella manzi aveva solo otto anni quando fu uccisa in un boschetto alle pendici di castel del monte era il 19 agosto del 2000 per mamma giovina adesso sua figlia è finalmente libera adesso sta proprio benissimo come forse che lì adesso in questo momento sta giocando con gli altri bambini su castel del monte giusto doveroso e umano ha detto la sindaca di andrea giovanna bruno dare una sepoltura dignitosa la bambina diventata un simbolo della lotta alla violenza dell'uomo è come se da questo luogo volessimo chiedere scusa a graziella per una comunità che non è stata in grado di difenderla e di proteggerla in quella calda sera d'estate di 22 anni fa e allo stesso tempo le chiediamo una protezione particolare la immaginiamo così leggera vario pinta libera proprio come una farfalla per quell'omicidio tra i più efferati che la cronaca ricordi stanno scontando la pena dell'ergastolo quattro giovanissimi uno di loro si suicidò in carcere lasciando un biglietto in cui invitava gli amici a non arrendersi sostenendo che l'unico colpevole fosse pasquale tortora il solo che confessò il delitto e fu condannato a 30 anni di carcere con il rito abbreviato